In questo video voglio rispondere principalmente a due domande, cioè che cos'è il BIOS e a cosa serve, o meglio che cos'è e a cosa serve il firmware del PC e vedremo che cosa sono sia BIOS che UEFI e cosa sono le partizioni e quali metodi di partizionamento esistono. Iniziamo parlando dal firmware. Il firmware è semplicemente un software che risiede all'interno di una memoria ROM e viene eseguito immediatamente all'accensione del computer. Sui nostri PC il firmware può essere il BIOS, nel caso di computer prodotti dal 1981 fino al 2012-2013 circa, oppure UEFI, nel caso di PC prodotti dal 2012-2013 in poi. Ogni tanto, nel parlare comune, potresti sentire parlare di BIOS UEFI, ma questa definizione tecnicamente non è corretta, in quanto, come abbiamo visto, BIOS e UEFI sono due tipi di firmware distinti. Il fatto è che il BIOS è stato l'unico tipo di firmware per PC per decadi, quindi la parola BIOS di fatto è diventata sinonimo di firmware. Quindi, quando senti qualcuno che parla di BIOS UEFI, sai che si sta riferendo al firmware UEFI. Il firmware, che sia BIOS o UEFI, svolge principalmente due funzioni. Effettuare una prima inizializzazione delle varie periferiche hardware e cercare nell'hard disk o in un'altra periferica un sistema operativo da avviare. L'operazione di avvio del sistema operativo si chiama BOOT e la parte del sistema operativo a cui il firmware cede il controllo si chiama BOOTLOADER. Se vuoi abilitare o disabilitare delle periferiche, di modo da renderle visibili o nascosti al sistema operativo, oppure se vuoi pacioccare con il timing delle RAM per vedere se riesci a spremere un po' più di prestazione dal tuo PC, spesso a costo di un po' di instabilità però, allora puoi entrare nel menu di configurazione del firmware, solitamente premendo ripetutamente il tasto CANC immediatamente dopo l'accessione del computer. Ma, visto che non esiste uno standard, il tasto da premere potrebbe essere un altro. Avevamo anche visto nel video di installazione di Ubuntu MATE che è possibile scegliere da che dispositivo fare il boot, andando a richiamare il boot menu. Anche qui, solitamente premendo ripetutamente il tasto F12 subito dopo l'accensione del PC, ma sul tuo computer il tasto da premere potrebbe essere differente. Tutto questo è molto bello, ma perché mi serve sapere se a firmware BIOS oppure UEFI? BIOS e UEFI svolgono di fatto la stessa funzione, ma dobbiamo capire che il BIOS è stato concepito nel 1981 e di conseguenza è limitato, soprattutto per quanto riguarda la dimensione massima dell'hard disk riconosciuta. Ovviamente, io parlo di hard disk, ma il discorso è uguale e identico nel caso di SSD. I BIOS più recenti non riconoscono hard disk di capacità superiore ai 2TB, ma i BIOS più vecchi non riconoscono hard disk superiori ai 128GB. Di conseguenza, se hai un hard disk di capacità superiore ai 2TB e vuoi fare il boot da esso, allora devi necessariamente avere un PC dotato di firmware UEFI. Altra differenza importante tra BIOS e UEFI è il tipo di partizionamento supportato e di conseguenza la posizione all'interno del disco dove andranno a cercare il bootloader. Parliamo ora di partizionamento. Un hard disk per essere utilizzabile va partizionato, cioè suddiviso. Suddividere un hard disk in partizioni comporta diversi benefici. I due principali sono È possibile tenere una partizione dedicata per il sistema operativo e una partizione separata per i dati, di modo che, se si volesse ranzare via tutto e reinstallare il sistema operativo, allora non vengono persi i dati. È possibile installare contemporaneamente più sistemi operativi, visto che ogni sistema operativo richiede almeno una partizione dedicata. Abbiamo due metodi di partizionamento dell'hard disk, MBR e GPT. Vediamo il metodo MBR, che prende il suo nome dai primi 512 byte del disco, che per l'appunto si chiama Master Boot Record. È stato introdotto con MS-DOS versione 2.0 nel lontano 1983, quando gli hard disk erano grandi la bellezza di 10 megabyte. In questi 512 byte sono contenuti sia il bootloader, o almeno parte di esso, sia la tabella delle partizioni. Originariamente prevedeva un massimo di sole 4 partizioni all'interno del disco. Ben presto ci si è resi conto che avere solo 4 partizioni era limitante. E allora, nel 1987, con l'avvento del DOS 3.3, si è riusciti a trovare un metodo retrocompatibile per avere un numero di partizioni illimitato in questa maniera. Le 4 partizioni definite nell'MBR vengono chiamate partizioni primarie. Una di queste 4 partizioni può diventare una partizione estesa. A questo punto, all'interno della partizione estesa, si possono creare tutte le partizioni illogiche che si vogliono. Questo metodo di partizionamento ha numerosi svantaggi. Non supporta hard disk di dimensioni superiore ai 2 terabyte. La distinzione tra partizioni primarie, partizioni estese e partizioni illogiche è inutilmente complesso. Visto che il bootloader risiede all'interno dell'MBR e ha ben 446 byte, non mega, ma solo byte, disponibili per caricare il sistema operativo, il codice del bootloader è inutilmente complesso, con una prima parte che risiede nell'MBR e una seconda parte che risiede come eseguibile all'interno di una partizione. Visto che c'è un solo MBR, c'è spazio per un solo bootloader e questa è una situazione difficile da gestire nel caso ha installati più sistemi operativi contemporaneamente. Anche se teoricamente UEFI supporta hard disk partizionati MBR, diciamo che questo metodo di partizionamento è quello utilizzato al BIOS. Il metodo GPT nasce per avviare a tutte le limitazioni del metodo MBR, quindi non ci sono partizioni primarie estese o logiche, ma semplicemente una partizione è una partizione. Supporta hard disk di dimensioni nettamente superiore ai 2TB. Al posto di avere i primi 446 byte per il bootloader, utilizza una partizione particolare chiamata EFI System Partition e il bootloader è semplicemente un eseguibile all'interno di questa partizione. Essendo una normale partizione, può essere delle dimensioni che vogliamo, anche se solitamente è tra i 100 e i 500 MB. Visto che la EFI System Partition è una normalissima partizione FAT32, può contenere più di un bootloader e il bootloader da avviare può essere scelto nel menu di configurazione UEFI. Questo metodo di partizionamento non è supportato dal BIOS, ma solo da UEFI. Concludendo, visto che non ci piace complicarci la vita, possiamo mappare uno a uno il firmware BIOS col partizionamento MBR ed il firmware UEFI col partizionamento GPT e siamo contenti che tutto funziona. Come bonus, voglio ancora rispondere a qualche domanda giusto per farti vedere la valenza pratica di tutto quanto detto finora. Ho un hard disk di capacità superiore ai 2 terabyte. Posso partizionarlo con MBR? No, devi per forza usare GPT. Se hai fatto attenzione nel corso di questo video, questa era facile. Ho un hard disk di capacità superiore ai 2 terabyte e ho partizionato GPT. Posso usarlo su un PC col BIOS? Sì, ma solo se fai il boot da un altro dispositivo. Il BIOS non vedrà il disco, per cui non potrai farci il boot, ma i sistemi operativi moderni inizializzano l'hardware indipendentemente dal firmware, supportano hard disk enormi e lo schema di partizionamento GPT. Quindi, una volta avviato il sistema operativo, potrei utilizzare il disco tranquillamente. Ho un hard disk che voglio partizionare GPT. Ho bisogno di creare la F-System Partition? Solo se hai intenzione di fare il boot da quel disco. Altrimenti puoi anche farne a meno. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo di iscriverti al mio canale, attivare la campanella e che trovi i miei video sia su YouTube che su Library. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!